Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 29 settembre, è ovidente che oggi tutti i temi della giornata sono sul deficit al 2,4% e sulla reazione dei mercati. Andiamo sulla cronaca, 22 o 24 miliardi che in questi casi vengono definiti bruciati, bisogna fare sempre attenzione quando si definiscono bruciati i soldi in borsa, perché in realtà in borsa i soldi si bruciano ma non si creano mai, nel senso che poi se ci dovesse essere un rimbalzo nessuno direbbe recuperati 50 miliardi. Questo non toglie il giudizio che secondo me è di una manovra assurda, disgustosa e su questa manovra io voglio veramente dire che rispetto a tutti quanti i commenti di oggi, la cosa che mi impressiona è che, come direbbe una vecchia canzone, era già tutto scritto, cioè questa vicenda della manovra per cui si aumenta il deficit per alimentare almeno 10, 15, 20 miliardi di sussidi pubblici, insomma Milton Friedman nel 1950, nel 1950 iniziò a scriverlo ma nel 1970 era uno dei consiglieri di Ronald Reagan e si trovò in una situazione di assistenzialismo americano che era a livello di quello italiano, dice tre righe di Milton Friedman, sentitele bene, chiare, semplici, perché questa era la caratteristica di Friedman, uno dei pochi economisti che parlava comprendendolo, cioè tutti noi lo comprendevamo mentre parlava, era una cosa molto semplice, scriveva molto bene, AUG, allora diceva se tu paghi la gente che non lavora e la tassi quando lavora, non puoi essere sorpreso se produci disoccupazione, cioè semplice no? Cioè non è che ci vuole un economista, ci vuole il buonsenso che è tipico dell'economia, allora vi ripeto, se tu paghi la gente che non lavora, se tu paghi la gente che non lavora e la tassi quando lavora, nel senso che oggi chi lavora gli fanno un mazzo così, beh insomma allora non ti puoi sorprendere se aumenta la disoccupazione, questo dice Milton Friedman, oggi non vedo grandi editorialisti che dicono la stessa cosa, sono tutti là che si arrovellano l'Europa, i soldi persi eccetera, però ve ne faccio una breve spiegazione, il più noioso di tutti oggi è Cottarelli, perché vedete Cottarelli, che è una persona sicuramente per bene, che è l'uomo che doveva fare la spending review e che ho grande stima di quello che lui pensa, è inutile che faccia altre promesse, oggi ci fa un articolo totalmente inutile perché ci spiega che il 2,4% è fuori dai parametri europei, e che questa roba qua non è giusta secondo i canoni europei, non comprendendo secondo me che sta guardando il dito e non la luna, che è quella di Friedman, il tema non è il deficit, è anche quello ovviamente un tema con il debito che abbiamo, il tema è per che cosa utilizziamo il deficit, se il deficit l'avessimo utilizzato, e lo dico a Armando Siri, Garavaglia, Fedriga, Salvini, cioè a tutti quelli che in campagna elettorale ci avevano parlato della flat tax, se io mi indebito, cioè aumento il deficit per ridurre le tasse, quindi aumentare la produzione e la ricchezza di questo paese, bene, ma se io mi indebito, come fanno questi qua, per pagare sussidi di disoccupazione che non saranno mai controllati da nessuno, cioè pagare gente per non fare nulla dalla mattina alla sera, non creo nulla, non creo niente, non è attraverso la spesa che si crea la ricchezza di un paese, è attraverso gli investimenti, la produzione, le imprese, le assunzioni, ci arriva anche un bambino, ma non ovviamente Di Maio e tutti loro, vabbè, Cottarelli ci fa questo ragionamento, Alesina e Giavazzi su Quella della Sera ci mettono 200 righe per spiegare quello che dice Friedman, più o meno, molte meno ce ne mette Sallusti oggi sul giornale e dice questa manovra non pensa a chi lavora, dà più sussidi a chi non lavora, cioè tesi Friedman, questo lo dicono Alesina e Giavazzi, ci mettono 80 righe, ma più o meno dicono questo, ma si dimenticano di dire una cosa, che in realtà per rispettare il deficit nei passati anni, è vero che forse non venivano dati i sussidi come stanno dando oggi, ma venivano aumentate le tasse e quindi erano soluzioni altrettanto assurde, sbagliate per la crescita di questo paese, tant'è che la crescita di questo paese è diminuita e il debito è aumentato nonostante siano aumentate le tasse, semplice, semplicissimo, Sallusti dicono, tolgono soldi non ai cosiddetti ricchi, ma chi lavora? E questa è la cosa straordinaria, i mercati reagiscono al deficit più alto, dice il fatto, e ricorda Travaglio che nel 2017 il deficit più alto lo voleva anche Renzi, però Travaglio fai il tuo mestiere, che non è che esattamente scrivere cose di cui non capisci nulla, come tu stesso hai ammesso nella prima pagina del tuo giornale dicendo io di economia non capisco nulla, non capisce nulla di economia, oggi vi leggete il pezzo di Travaglio, è come far parlare Travaglio, non so, dell'ultima moda, non so, dei millennials, non la capisce l'economia, proprio è fuori dalla sua logica, la sua logica è solo dire brutto Renzi, cattiva la casta, rubate gli stipendi, questo fallo tu, va benissimo, quando guardi l'economia lascialo perdere. Prodi dice sul messaggero, teme che sarà, l'unica cosa interessante del pezzo di Prodi, teme che il deficit sarà ulteriormente aumentato da 2,4 a qualche virgola in più durante le discussioni parlamentari, e dice una cosa che è da vecchio democristiano qual è, probabilmente lui conosce bene, cioè che durante poi le dibattiti parlamentari c'è l'assalto alla dirigenza e questi continueranno ad avere più voglia di maggiori soldi. L'intervista a Salvini invece dice sul messaggero che la crescita, dice che ci sarà la crescita e che non cambieranno una virgola di questo, che la UE teme la nostra crescita, mi sembra una follia di Salvini, la UE teme la nostra crescita, è un tema assolutamente la nostra crescita, che poi loro siano dei cazzoni quando ci parlano di fascismo, parlano dell'immigrazione, eccetera, ci sta, ma che adesso l'Unione Europea tema la nostra crescita, mi sembra una roba che forse anche a Salvini dovranno spiegare come funziona l'economia, perché la crescita dell'Italia vuol dire la crescita di un grande mercato di consumo e di spesa per tutti gli altri paesi europei, quindi è una minchiata che l'Europa tema la nostra crescita. L'Europa semmai teme un'altra cosa, teme che l'Italia abbia un ruolo, abbia voce in capitolo, questo ci può stare che il motore franco tedesco sia intimorito da un maggior ruolo dell'Italia, ma che tema la nostra crescita, questa mi sembra una barzelletta. Gnocchi, e non solo lui, prendono in giro quella cosa secondo me che è quella che veramente ha spaventato i mercati, perché più di qualsiasi altra manovra, la cosa che spaventa i mercati, e lo dice sia lui, mi sembra, sia in una certa maniera, Mariero Calabresi sulla Repubblica, l'idea che ci siano questi ragazzi affacciati a Palazzo Chigi, che col segno di vittoria, vittoria de che, hanno aumentato il deficit, erano loro che potevano farlo, erano loro che hanno scelto il ministro Tria, il ministro Tria, il ministro del loro governo, cos'è la vittoria nei confronti di un loro ministro? Questo è la vittoria. E la vittoria cos'è? Aumentare i debiti, cioè spostare sulle generazioni future la spesa pubblica. Io non lo so che cosa si deve, la vittoria verso cosa? Quell'immagine di questi sei, sette ministri grillini che festeggiano sulla piazza, dice Gnocchi, più che il duce, ricordano Fidel Castro. E qualcuno invece dice, Calabresi dice, siamo all'ennesima giornata storica, perché questa è l'altra cosa molto divertente, insomma, del momento 5 stelle, togli l'aereo e Renzi, una giornata storica, e metti il decreto di città, una giornata storica, cioè ormai abbiamo fatto la storia, in tre mesi abbiamo fatto non so quante volte la storia. Lunedì sarà un altro giornato caldo, vedremo cosa succederà sui mercati, nessuno lo sa, ovviamente la questione dei mercati è fondamentale, solo le 24 ore tutti i dati giornali ci dicono i soldi che sono stati persi in borsa e soprattutto questa è la cosa fondamentale, che le banche hanno perso circa il 10% dell'eurocapitalizzazione. E il vero punto è che i mercati possono essere cattivi, ci possono anche essere i complotti, ma quando si perdono soldi in borsa non li perdono i cattivi speculatori, li perdete anche voi con i vostri fondi pensione, anche voi con i vostri risparmi, anche voi con tutte le polizze che vi siete fatti, non pensate che quando si perdono soldi in borsa è qualcun altro che li perda, in una società come la nostra i soldi in borsa sono i nostri risparmi, i tassi di interesse che aumentano sono un cazzo nostro, non sono una roba così, capito, aleatoria dei tedeschi che ce l'hanno con noi. Bene, Facebook si fa fottere 50 milioni di account, succede martedì, lo si scopre ieri, il Daily Mail fa l'apertura addirittura della pagina del suo giornale popolare inglese, gli italiani stanno un po' più modesti anche perché in Italia solo 0,2% degli account è stato violato, mentre in Gran Bretagna mi sembra il 2%. Sostanzialmente sono entrati attraverso una funzione particolare di Facebook, quella di vedere la pagina come se fossi un ospite e non il proprietario della pagina, è una cosa un po' complicata, ma sostanzialmente sono riusciti a trovare una pece di buco, di varco, questi pirati informatici e sono entrati nelle nostre pagine. E perché sono entrate? Sono entrate per il semplice motivo che così ci potevano rubare dati, informazioni, gli stessi che Facebook ha e a cui noi diamo gratis, solo che Facebook se li tiene per sé quando non li vende a Cambridge Analytica e in questo caso gli hacker sono andati e se li sono rubati in maniera truffaldina. Dobbiamo essere preoccupati? Sì, perché nel futuro i dati sono non solo la nostra ricchezza, ma la ricchezza di queste società che campano dei nostri dati e delle nostre informazioni, le stesse che ci fanno fare 2000 pip per trovare le password con un numero strano, il punto esclamatiro, la cosa, noi ci facciamo un mazzo così, scriviamo 2000 password diverse per ogni tipo di account e che succede? Che vediamo che Yahoo ha avuto 2 miliardi, Yahoo è il motore di ricerca e mail, ha avuto 2 miliardi di conti hackerati, Facebook è hackerata, noi facciamo tutto quello che dobbiamo fare, ci facciamo un mazzo così e loro cosa fanno per proteggere la nostra sicurezza? Boh! Il commissario del ponte dovrebbe essere Claudio Gemme, scusatemi, ex tutto, oggi dirigente di Fincantieri, che è una delle società che sono considerate popabili per la ricostruzione del ponte, anche se non ha nessuna delle autorizzazioni per poter fare un ponte di questo tipo, urlano allo scandalo alcuni giornali, è in conflitto di interessi! Dice Rizzo sul Repubblica, Rizzo in realtà è quello che ha creato il Movimento 5 Stelle, con la casta, con i conflitti di interessi, con le spese, con i pensioni, con i vitalizi, quindi è perfettamente nella linea del Movimento 5 Stelle, Rizzo dice è in conflitto di interessi per la pagina di Repubblica, perché è un dirigente di Fincantieri, questo ha fatto tutto nella vita, aziende private, Confindustria, Ansaldo, Fincantieri, ha fatto tutto nella vita, c'è una madre sfollata dal ponte di Morandi, invece di mettere una persona con conflitto di interessi potremmo mettere uno del Movimento 5 Stelle che non ha mai fatto niente nella vita, sarebbero più contenti i nostri giornalisti, perché chiunque abbia fatto qualcosa e ha 70 anni è sempre in conflitto di interessi, forse alla mamma, forse all'azienda, forse chi ci mettiamo là? Uno che non sa manco che cos'è un cantiere, io dico chi ci mettiamo là? Ci mettiamo qualcuno che è sicuramente in conflitto di interessi, ci sarà qualcun altro che lo controlla, o no? O se no va bene così, mettiamo Di Maio a fare il Ministro del Lavoro, caro Sergio Rizzo, che io stimo tanto, no, ci dirà, ci sarà di meglio tra Di Maio e Gemme, no, non c'è di meglio, va benissimo Gemme, quando poi mi leggo oggi il manifesto, cos'è il manifesto che titola? E' una cosa che anche lui sul conflitto di interessi, eccetera, tutto il pezzo di prima pagina lo chiama Claudio Genna. Loro sono talmente informati di questo signore, sanno già tutto sul suo conflitto di interessi, che non sanno il suo cognome. Fantastico, io lo trovo fantastico. E lo zanza, quello il playboy che viene beccato, muore a letto con una donna, non gli negano, dice Zurlo, e facci oggi sul giornale e sul libro, due parrocchie di Rimini gli negano i funerari. Fanno bene i tuoi giornalisti a dire, ma che state facendo? Cioè, che state facendo? La Chiesa abituata ad accogliere tutti, in realtà non accoglie un italiano cattolico, cristiano, che certo ha avuto una vita dissoluta. E allora andiamo avanti così, con i funerali che non sono accettati in Chiesa da parte della... Tra poco arrivo con l'annunziata. Non vi preoccupate, oggi sulla stampa se li scrive Luce annunziata! Non la dovete perdere, perché fra un po' ve la leggo. Aumentate, venite, arrivate, perché vi leggo delle perle di cui voi umani non avete idea. Cosa succede? Candy, invece, questa è una storia importante, che è una delle prime aziende del bianco elettrodomestici italiani, della famiglia Fumagalli, vende ai cinesi, a fabbriche in tutta Europa, una in Italia, preoccupatissima comprensibilmente, vende per 475 milioni, Di Vico dice tutti gli errori che abbiamo fatto nel passato, la sostanza è che noi le lavatrici non le facciamo più. Non c'è più un'azienda italiana che faccia il bianco, che faccia lavatrici, è un mercato che non esiste più, l'abbiamo venduto a cinesi e coreani, e devo dire che più che preoccuparmi per Versace l'altro giorno, mi preoccupo per Candy, perché, vedete, mentre chi compra Versace, compra un marchio e compra soprattutto un know-how che resterà in Italia, perché per fare borse, vestiti, design, noi siamo ancora un grande polo di attrazione del mondo, per fare lavatrice bianco, che ormai è una commodity purtroppo, beh, in quel caso prospettive, perché siano ancora localizzate le fabbriche, io ne vedo davvero poche, fra 2-3 anni ci rivedremo, quando ci spiegheranno che la fabbrica Candy, purtroppo di Monza, mi sembra Brianza, dov'è l'unica rimasta in Italia, e verrà ridimensionata. Arriviamo all'ultima pagina di questa nostra zuppa di porro, perché arriva l'annunziata, e come sapete, quando arriva l'annunziata bisogna declamare. Il DEF, presentato ieri da Di Maio, come l'abolizione della povertà, seppur ricoperto da interessanti mezzucci comunicativi, e solo una povera misura elettorale. Chiaro? Seppur ricoperto da interessanti mezzucci comunicativi. Ma che sono? Ma cosa sono? Ho capito cosa vuol dire, ma seppur ricoperto. L'Italia è un paese molto grande per essere davvero punita. Ma, scusate, cosa è punita l'Italia? L'Italia è un paese molto grande per essere davvero punito. Il paese, o punita l'Italia? Beh, non lo so, questo forse c'è ragione lei. L'Italia è un paese molto grande per essere davvero punita. L'Italia è un paese davvero grande per essere davvero punito. Qualcuno di voi poi mi deve spiegare qual è giusto, punito o punita. Però andiamo sulle cose buone. La disaffezione e il sovranismo galoppanti possono far immaginare dunque che la UE possa essere sfidata con possibilità di vittoria e se questo fosse il caso il governo italiano avrebbe ottenuto il suo deficit nonché una messa cuccia dei poteri deboli europei. Guardate che ce ne vuole. Guardate che per creare questa frase ce ne vuole. La disaffezione e il sovranismo galoppanti possono fare immaginare dunque che la UE possa essere sfidata con possibilità di vittoria e se questo fosse il caso il governo italiano avrebbe ottenuto il suo deficit nonché una messa cuccia dei poteri deboli europei. Attenzione alla messa cuccia! Bene, per ingrassare cos'è diciamo? Aspettate, i mercati i mercati sentite i mercati costituiti per ingrassare durante le crisi cioè i mercati sono stati costruiti per ingrassare durante le crisi i mercati ingrassano durante le crisi i mercati ingrassano durante le crisi ieri quindi abbiamo bruciato l'ingrasso bruciato l'ingrasso vabbè darà la possibilità eh questo è stupendo qui inizia a trovare nella seconda parte del suo pezzo e l'ha annunziata inizia a trovare la narrazione quella che faceva Renzi darà la possibilità a Di Maio di tessere la narrazione quindi la narrazione si tesse si tesse è una narrativa che troviamo traiamo una narrativa che traiamo dalla cronaca di questi giorni sempre che le kaleidoscopiche balle create dai pentastellati per fomentare questa narrazione non vengano erose dalla realtà speriamo dunque che le kaleidoscopiche balle create dai pentastellati per fomentare questa narrazione non vengano erose dalla realtà e su questa erosione della realtà vi saluto e vi dico che oggi sicuramente da qualche parte il pezzo intero dell'annunziata lo troverete non perdetevelo perché farete un grandissimo weekend questo è l'ultimo annuncio della narrazione che eroderà le kaleidoscopiche balle create dai pentastellati per il cielo tutti contro le kaleidoscopiche lo voglio dire un'altra volta balle create dai pentastellati e smettetela di tessere questa questa narrazione ciao